Ciao, sono Alessandro. Che sport pratichi? Io faccio atletica, le mie specialità sono il salto in alto e il salto triplo. Come si chiama il tuo college? Il mio college si chiama Washburn University. Ok, allora raccontaci il tuo primo bel ricordo negli Stati Uniti e l'ultimo di quest'anno. Così cerchiamo un po' di comparare i due ricordi. Ci sono tanti ricordi bellissimi che ho fatto negli Stati Uniti. Penso che vivendo in Kansas più che posti bellissimi visitati è stato più le persone che ho conosciuto che sono diventate parte importante della mia esperienza. E penso che il ricordo più bello che ho è stato quando ho saltato per la prima volta i due metri e sedici il mio primo anno. Perché appunto oltre che essere l'ultima gara per cui potersi qualificare nazionali era anche un momento in cui c'erano i miei amici, i miei compagni di stanza ed è proprio stata una delle poche gare in cui erano tutti lì a tifare per me ed è stato un momento magnifico per me che ho vissuto davvero bene anche perché è stato un po' l'apice di quell'anno. Quindi ti sei sentito forse anche al 100% integrato in quella realtà, no? Mi è sembrato di capire. Però io ti chiedo quanto tempo hai impiegato ad adattarti negli Stati Uniti? Com'era la vita all'inizio, no? Magari le tue prime impressioni, le tue prime paure? Sì, allora diciamo che conoscevo gli Stati Uniti insomma semplicemente per news sul telefono oppure qualche contatto che trovi su Instagram online, qualche chiacchierata però appunto non sai davvero com'è finché non ci vai. Già dall'inizio ho sempre cercato di comportarmi in maniera neutra perché come noi italiani siamo al solito conosciuti per essere molto espansivi insomma io ho sempre cercato di evitare questo lato perché una delle mie paure era che appunto non piacesse questa cosa all'estero. Appunto alla fine ho trovato che come appunto è vero ovunque, ad alcune persone piace, ad altre no e poi anche gli americani hanno le loro stranezze. Quindi diciamo che ho imparato, posso dire, ad adattarmi ma allo stesso tempo ho imparato ad apprezzare i loro difetti e loro appunto hanno apprezzato un po' anche i miei difetti e ho imparato appunto ad adattarmi penso alla fine dopo già i primi tre mesi insomma andavo d'accordo con tutti i miei compagni a distanza che molti... dico primi tre mesi perché ci ho messo un po' a conoscerci perché comunque con l'atletica si è subito dentro a lavorare e più che i miei compagni a distanza ho imparato a conoscere molto prima le persone con cui appunto facevo sport con loro sono andato d'accordo praticamente subito sono... sì insomma posso dire che tutte le persone nel mio gruppo sono tutti i miei amici infatti per esempio il ragazzo che ora vive con me ma che era nel dormitorio con me verrà a trovarmi questa... quest'estate in Italia quindi ti senti un po' che... cioè le amicizie che hai costruito negli Stati Uniti appunto te le... te le riporti in Italia no? sì 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 quindi sono persone che in realtà non sono solo di passaggio sì 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 ho capito cosa intendi insomma io ho sempre cercato comunque nella mia vita di cercare queste amicizie che non fossero di passaggio soprattutto in America dato che comunque volevo vivere questa esperienza al 100% e trovare questo tipo di persone era in pratica la chiave per farla diventare parte della mia vita e posso dire di effettivamente aver trovato questo tipo di persone durante la mia esperienza e non solo una ma in realtà molteplici che bello complimenti sono veramente contenta per te e ti dico che magari sai all'inizio uno si spaventa anche infatti ti chiedo a causa dell'inglese no? sì com'era il tuo inglese all'inizio? diciamo ti spaventavo un po' aprirti, buttarti e parlare l'inglese? oppure diciamo sei partito con una bassa abbastanza solida? allora io ho fatto un liceo scientifico a mio parere molto difficile e quindi appunto c'erano persone molto brave nella mia classe io ho imparato proprio a fare tanti errori, ad avere tante difficoltà sono stato un po' preso in giro anche perché ho questo accento indiano che adesso non è non più come prima ma prima avevo un accento insomma un po' indiano quindi diciamo che avendo già imparato che insomma cioè gli errori sono parte sono semplicemente parte di un'esperienza io non ho avuto problemi a buttarmi da questo punto di vista nonostante sapessi che il mio inglese non fosse al top chiaramente ma poi nessuno in America si fa problemi chiaro loro capiscono poco gli accenti perché sono poco a contatto con altri accenti effettivamente perché lo so se sei a Londra già cambi pochettino un posto e trovi un altro accento inglese cioè senti parlare ad elle è una cosa completamente diversa da quello che ti aspetti mentre in America no, in America è un po' la stessa cosa poi c'è l'accento del sud però ok hanno solamente questo quindi fanno un po' fatica a capire gli accenti ma a loro piace comunque quindi non è sicuramente un problema per una persona che vuole fare questa esperienza secondo me quindi lo possiamo inserire forse anche come un punto di forza l'essere italiano, avere un accento diverso rispetto a loro che comunque gli piace sì 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 è apprezzato diciamo che basta che non lo forzi e insomma poi alla fine va tutto liscio sì sì a loro non dispiace assolutamente ci metteranno un po' semplicemente a imparare anche loro ad adattarsi alla vostra parlata per esempio certo allora invece ti chiedo magari di raccontarci un po' la tua schedule degli allenamenti cioè la tua vita ci spostiamo iniziamo magari dal punto di vista accademico no? e come tu riuscivi a gestire il lato accademico con quello sportivo quindi magari i tuoi orari, le materie che hai scelto cioè gli orari appunto degli allenamenti, come erano le palestre e poi ti chiederò anche le differenze no? fra le palestre americane e le palestre italiane certo allora parto col dire che prima di dire la mia schedule sicuramente è importante fare presente che c'era tutto nel senso che c'era la palestra per allenarsi, per fare i pesi, per gli atleti specialmente poi c'era anche quella per tutte le altre persone, per chi volesse e quanto altro ma noi avevamo la palestra per gli atleti avevamo la nostra indoor, alla Washburn abbiamo una delle migliori indoor secondo me anche d'America possiamo metterla tra le prime secondo me in Italia non abbiamo una cosa del genere per esempio di piste e poi appunto avevo, diciamo che avevo tutto quello di cui avevo bisogno anche le classi e tutto erano poste in punti raggiungibili molto facilmente essendo poi la mia università molto piccola quindi quello che riuscivo a fare era proprio aggiustare i miei corsi io studio fisica, il dipartimento di fisica è abbastanza piccolo alla Washburn quindi non è come molto spesso capita che magari una persona che va a studiare business o management per esempio nella mia scuola business è molto forte come laurea loro avevano più corsi, più possibilità di gestirsi meglio ma anche io che avevo insomma queste poche possibilità insomma di movimento perché c'è solo un professore che non lo so, c'è solo un professore che ti insegna ottica è solo uno che ti insegna meccanica allora è quello l'orario, non puoi andare da tutte le altre parti ma appunto proprio è stata questa possibilità di avere tutte le cose di cui avevo bisogno vicine che mi hanno permesso e appunto anche l'apertura mentale dei coach che è completamente diversa dall'Italia l'apertura mentale dei coach è da dire ah guarda se hai questo corso qua allora facciamo che gli allenamenti te li sposto qua anche se sei da solo ci adattiamo facciamo in modo che tu ce la possa fare questo aiuto è stata penso la chiave per me perché comunque la mia schedule base per esempio è stata quest'anno perché l'anno prima era già diversa per esempio però ti parlo di quest'anno per esempio mi svegliavo alle 5 e mezza di mattina e alle 6 e mezza si avevano la prima sessione di allenamento si fa pesi quindi si andava in palestra tranquillamente poi si tornava a casa avevo un po' di tempo per recuperare e poi andavo per esempio a lezione verso le 9 poi dalle 9 a mezzogiorno c'era l'università o forse in realtà anche fino alla 1 magari avevo qualche buco insomma dentro la mia schedule e poi tornavo a casa, mangiavo e andavo subito agli allenamenti quindi diciamo che si finiva per me verso le 3 di pomeriggio per esempio e poi dopo le 3 di pomeriggio io mi mettevo a studiare comunque tutto quello che dovevo studiare ho fatto notti insonni, sì purtroppo perché molti dei miei corsi richiedevano davvero tanto tempo soprattutto quest'anno è stata davvero dura però comunque penso che è stato diciamo che è stato per me possibile avere certi risultati sia accademici che atletici semplicemente perché c'è stata proprio questa possibilità di fondere questa diffondere parte accademica e parte atletica e appunto anche insomma l'apertura mentale che ho trovato lì dentro da parte di allenatori e di professori perché per farti un esempio una cosa che in Italia non trovi è l'allenatore di basket che ha una laurea per esempio in matematica cosa che in America è presente cioè io mi sono ritrovato nel mio primo corso di analisi 1 mi sono ritrovato un ragazzo che fa no no io voglio fare il coach di basket alle superiori e insegnare matematica è una cosa che in Italia non è molto comune comunque quindi è proprio stata questa apertura mentale che ha permesso la possibilità di fare tutto poi insomma dipende da quello che si vuole ottenere se si è abbastanza determinati si può fare tutto è proprio questa l'America è proprio possibilità quindi bello questa parola possibilità che forse in Italia vieni un po' penalizzato essere uno studente atleta raccontaci un po' com'era la tua vita in Italia cosa ti ha spinto ad andare negli Stati Uniti se riuscivi a unire sicuramente hai detto che facevi le notti insonni perché suppongo che appunto a te piaccia impegnarti, studiare, portare a termine i tuoi obiettivi però magari queste notti insonni in Italia non bastano perché il connubio non viene agevolato dai professori non hai come detto apertura dei coach qual è la differenza sostanziale fra l'Italia e gli Stati Uniti? come era essere uno studente atleta in Italia? è stato pesante ho affrontato la depressione per penso due anni della mia vita un anno e mezzo non è stato molto bello soprattutto perché non ero supportato anche proprio in atletica possiamo vedere l'atletica che in tv va bene che da tutte le parti gli atleti italiani in atletica stanno andando bene ma la situazione non è messa cioè non stiamo bene a livello economico abbiamo bisogno di fondi, abbiamo bisogno di soldi io ho fatto tanta tanta fatica a passare da prove multiple a salto in alto perché mi allenavi in un posto dove non c'era c'era un allenatore di salti ma poi se ne è andati per problemi della società perché gli allenatori che allenano l'atletica in Italia chi sono? sono quelle persone che hanno un lavoro e lo fanno per passione quindi quando vai ad allenarti in Italia ci vai a orari che appunto sono comprensibili per una persona che lavora quindi alle 6 per esempio e quindi io tornavo da scuola dalle 2 e poi andavo ad allenarmi alle 6 fino alle 8 e poi comunque c'era anche poco tempo per studiare e poi comunque diciamo che il liceo italiano non ti dà una vita facile se comunque vuoi andare non dico insomma con la media del 10 ma anche bene con una media dell'8 se vuoi fare il tuo e un po' di più ma insomma è stato molto difficile e appunto proprio perché non avevo allenatori non avevo supporto sapevo che all'università sarebbe stato ancora peggio perché gli orari erano impossibili quindi secondo me la scelta dell'America è stata penso una manna dal cielo per continuare appunto il mio sport che mi ha permesso quindi di arrivare ai livelli dove sono e a conoscere una realtà diversa l'Italia è come se ti mettesse di fronte a una scelta no? o quello o quello invece come hai detto tu è importante non perdere lo sport che è la tua passione ma anche il punto di vista accademico perché anche quello è una passione quindi perché uno deve rinunciare a una delle due cose se può farle bene insieme in realtà e quindi è bello che in America ci siano queste opportunità che tu hai trovato diciamo la tua opportunità e poi infatti hai raggiunto obiettivi straordinari sappiamo che ti sei classificato sesto e campionati indoor sia in salto in alto che nel salto triplo e hai ottenuto i migliori risultati indoor nel salto in alto all'alumni invitational come ti sei sentito dopo aver ottenuto tutto ciò e come ti sei sentito soprattutto da italiano ad aver raggiunto tali obiettivi in un paese che non è il tuo e in un'università che appunto era nuova per te no? Sì insomma raggiungere questi risultati in America non penso sia come raggiungerli in Italia se vai a vedere per esempio le graduatorie in Italia di chi fa salto in alto non vedi risultati cioè risultati come il mio ti piazzano appunto in una buona posizione in Italia ti permettono di andare a fare gare con personaggi che vedremo per esempio le Olimpiadi quest'anno io e altre persone della mia età abbiamo partecipato ai campionati italiani assoluti dove ha partecipato Stefano Sottile che vedremo agli Olimpiadi per esempio quindi fare risultati tipo un 2-8 ti permette di andare a questi campionati mentre invece in America quando fai questi risultati insomma ok ma c'è così tanta competizione cosa che io ho apprezzato tantissimo per esempio cioè per me è proprio il fare questo risultato e poi trovarsi davanti un'altra marea di persone che fa questo altro risultato per spingerti più avanti è appunto una cosa straordinaria per me saltare 2-8 cioè tu adesso me lo leggi come se fosse un grosso risultato e ti dico sì sì cioè rendiamocene conto ma allo stesso tempo per me in quel momento non è stato tutto questo granché è stato ok sono solamente parte della gara non sono tra i primi non so se andrò ai nazionali per esempio non so se mi qualificherò e diciamo che proprio questa forte competitività questa possibilità appunto di incontrare persone che insomma vogliono anche non solo vogliono che non solo loro vogliono saltare in alto ma vogliono che anche le persone intorno a loro saltino in alto per essere spinte appunto a maggiori risultati è proprio quello che ho trovato in America sono stato contentissimo del 2-8 ma allo stesso tempo in quella gara penso servisse un buon 2-13 per andare a fare un risultato ancora migliore quindi sì insomma non te lo senti come un risultatore quando sei là però insomma sai che in Italia per esempio è un risultato importante anzi mi dispiace se l'ho letto un po' male che hai ottenuto così tante cose che guarda secondo me dovresti sentirti a prescindere orgoglioso perché quello che hai seminato là e che hai raccolto là lo raccogli forse il triplo in Italia no? sì quindi affermi di essere cresciuto dal punto di vista sportivo sì io affermo di essere cresciuto nel punto di vista sportivo e vorrei che anche l'Italia cresca dal punto di vista sportivo perché molti dei risultati che tu vedi là non sono riconosciuti in Italia purtroppo perché c'è questo problema nell'atletica che in questo momento molti risultati collegiali non vengono contati come risultati anche validi per l'Europa io potevo andare per esempio ai campionati europei l'anno scorso ma non mi hanno portato perché il risultato che ho fatto non era valido per i ranking europei quindi insomma si poteva raccogliere io ti posso sicurare che si poteva raccogliere che il risultato l'avevi ottenuto comunque si poteva raccogliere molto di più c'è ancora questo essere insomma indietro rispetto a quello che potrebbe essere l'Italia a livello atletico invece appunto non sono riuscito a raccogliere questi semi che come hai detto tu c'erano e ci sono sicuramente mi sono stati permessi proprio grazie a questa esperienza quindi sì diciamo che l'Italia mi ha un po' bloccato a un certo punto cioè non mi ha neanche permesso di prendere tutti di raccogliere tutti i risultati che c'erano quindi è stata un po' è un po' triste come situazione ma appunto c'è da rendersi conto che un'esperienza del genere porta tanti risultati e dovrebbero riflettersi anche nell'altro continente ma appunto non è così purtroppo e cosa consiglieresti agli altri studenti atleti italiani che stanno considerando di trascorrere un anno scolastico negli Stati Uniti? Di andare cioè se non insomma anche se le possibilità economiche non sono delle migliori anche se sai che probabilmente potrebbe essere un buco nell'acqua l'unica cosa che davvero te lo dirà è semplicemente il buttarsi e fare questo salto appunto non sai dove atterrerai non sai se atterrerai ma è appunto è la cosa da fare perché perché è un'esperienza che che ti cambia che ti cambierà che appunto in un certo senso ti sveglia anche il cervello verso tantissimi punti di vista perché in America ci sono tante persone diverse e non vengono solo appunto dallo stato in cui sei ma vengono da tutto il mondo è come fare un Erasmus ma moltiplicalo per mille cioè ok fai l'Erasmus ma fare un solo anno in America per me è stata un'esperienza completamente diversa ho affrontato tanti tanti lati della mia personalità che non avevo mai affrontato in Italia e che non penso avrei mai affrontato nella mia vita non avessi fatto questa esperienza per me è stato un viaggio di conoscere appunto me stesso questa esperienza e appunto anche se le possibilità economiche ripeto come per me non lo erano particolarmente sufficienti ma appunto c'è c'è la possibilità andare tramite la borsa di studio tramite la borsa di studio sì 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 chiaramente poi dipende quello che copre la borsa di studio perché anche se non sempre può coprire tutto è comunque un'esperienza che si deve fare è comunque un'esperienza che è valida è comunque un'esperienza che ti può far crescere e non è mai detto che tu non possa crescere con l'esperienza e per esempio come ho fatto io che sono partito con una borsa di studio che insomma non era altissima ma adesso posso dire che sto davvero 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 bene con i risultati che ho ottenuto e tutto insomma tutto tutti i semi come dicevi te che comunque ho piantato in America sono anche cresciuti in America e hanno fruttato tanti tanti risultati sicuramente più di quelli che avrebbero fruttato in Italia e dato che molte cose forse tutte mi vengono riconosciute in America diciamo tante cose mi vengono riconosciute in America insomma è un'esperienza da fare ed è un'esperienza che ne vale la pena quindi l'ultima domanda un po' anche se forse conosciamo già la risposta e lo rifaresti? sì sicuramente non c'è modo di tornare indietro allora concludiamo con un consiglio magari che daresti ai ragazzi che hanno un po' di paura ecco no a partire negli Stati Uniti a te cosa ti ha spornato a non avere paura qual è la chiave per buttarsi perché appunto tu hai detto bene buttarsi ne vale la pena hai detto cose stupende però secondo te qual è la chiave per fare quel salto no quel passo in più per dire va bene vado beh la paura la paura ci deve essere se non c'è la paura non c'è non c'è l'impegno nel fare il salto a dovere se quando si è davanti l'asticella si deve avere paura ma appunto è proprio deve essere anche allo stesso tempo il pensiero di cosa stai saltando cosa salti quando salti quell'asticella cosa ottieni dopo che hai saltato quell'asticella e anche fallendo comunque l'asticella arriveresti a dire cavolo però stavo guardando un'asticella che era davvero in alto quindi insomma ci sono tante paure quando una persona cioè ci possono essere tante paure quando una persona si affaccia appunto a un'esperienza del genere che può essere l'inglese non lo era per me ma so che per altri miei amici lo è stato che potrebbe essere per esempio la paura dei soldi che per me lo è stata tantissimo ma per altri non lo è ci sono tantissime paure perché siamo tutte persone diverse ma allo stesso tempo la cosa che ci deve spingere a fare questo a fare questo salto è il fatto che come ho già detto prima possibilità l'America è possibilità quello che non troverai in Italia lo puoi sicuramente trovare in America è una società difficile è una società competitiva ed è giusto quindi avere paura ma è importante appunto affacciarsi di nuovo a questa asticella e dire la voglio saltare ci voglio provare perché nonostante tutto è un ostacolo che nella propria vita che ci si può affacciare solamente a cui ci si può affacciare nella vita solamente una volta e quindi va affrontato bene hai detto cose bellissime allora io ti ringrazio ti auguro un enorme in bocca al lupo da Collegio Life Italia che tu possi realizzare tutti i tuoi sogni sei un ragazzo molto determinato si vede hai detto parole belle si sente che sei una persona che ha saltato in alto è caduto ma continua a saltare quindi ti auguro così concludiamo di saltare per sempre grazie a te grazie a voi